incontro tra matteo salvini e luca zaia oggi giovedì 24 a roma al centro del colloquio informa la lega i temi più importanti per il veneto come autonomia infrastrutture lavoro olimpiadi e fondi europei salvini e zaia hanno parlato anche di una lega che cresce che in veneto ha accolto 10 nuovi sindaci nelle ultime settimane con il presidente mattarella è andata bene come sempre sono stati toccati i temi importanti che ci interessano anche quelli dell'autonomia differenziata e dell'articolo 116 per quanto riguarda il veneto vi dico che noi sul fronte dell'autonomia continuiamo ad andare avanti e la richiesta di autonomia resta forte come prima lo ha detto il presidente del veneto luca zaia dopo l'incontro della conferenza delle regioni con il presidente della repubblica sergio mattarella altri 40 milioni a cortina per le olimpiadi invernali sono stati deliberati dal consiglio dei ministri al riguardo il governatore zaia la settimana scorsa aveva sollecitato un commissario con poteri straordinari sul modello adottato per la ricostruzione del ponte morandi a genova per l'organizzazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali necessari ai giochi del 2026